Apriamo con l'arriete. Invece di darvi da fare, sarebbe meglio che vi fermaste a riflettere attendendo l'evolvere degli eventi. Non siate troppo egoisti o pretenziosi nelle vostre relazioni. Toro. Gli astri vi invitano a dosare e vi daranno gli strumenti per farlo. Se si tratta di lavoro, le occasioni favorevoli non mancheranno. Potranno essere numerose e allettanti. Gemelli. Sarete più curiosi del solito e cercherete di movimentare le cose ripetitive e noiose. Vivrete con la persona amata uno scambio appagante. Sarete maliziosi al punto giusto. Cancro. I rimpianti o il ricordo di scelte sbagliate del passato vanno accantonati. Fate tesoro dell'esperienza, ma andate avanti senza voltarvi indietro. Coraggio e grinta sono con voi. Leone. La giornata scorre sui binari della tranquillità. Siete vivaci, vi sentite in gran forma e ottimisti. Avete più tempo da dedicare al partner e ci sono più occasioni per stare con gli amici. Vergine. La giornata vi trova pieni di iniziativa. Liberatevi in fretta dagli impegni e dedicatevi completamente al vostro progetto preferito. In alternativa, potete optare per concludere dei piccoli lavori in sospeso. Bilancia. Seducenti, magnetici ed empatici come siete oggi, se cercate l'anima gemella potrebbe presentarsi una buona occasione per centrare il bersaglio. Se vi sentite stanchi e sfibrati, non pensateci due volte. Scorpione. Pochi gli stimoli ancora meno le emozioni oggi. È inutile, forse anche dannoso, forzare le cose. Non resta che rassegnarsi. Una vega, forse di natura burocratica, reclama la vostra attenzione. Sagittario. Sfruttate al meglio la vostra intuizione e vedrete diventare realtà un buon affare o un amore che fino ad ora avevate solo osato sognare. Potrete anche fare chiarezza in una questione magari familiare che ha creato qualche tensione. Capricorno. Giorno movimentato, pieno di aspettative e di programmi. Mettete in conto incomprensioni, fraintendimenti, distrazioni, disguidi e ritardi. Acquario. La giornata in bocca alla direzione giusta. Si prevedono piacevoli fuori programma, belle sorprese. Non si escludono neppure chiarimenti nelle amicizie, tanto meno delle opportunità. Piacevoli incontri per i single. Pesci. Certe difficoltà restano, ma ora avete le carte in regola per affrontarle o rimuoverle grazie a un successo in amore o nel lavoro. Siete a vostro agio. La compagnia vi entusiasma e perfino il partner oggi vi trova irresistibili. Grazie. Grazie. Grazie a tutti